Presso il salone della scuola alberghiera Buonarroti di Fiuggi si è svolta la cena di gran gala offerta dagli alunni e dai docenti per salutare la fine dell'anno scolastico. Numerosi gli ospiti intervenuti alla serata, un parterre di altissimo profilo per gustare le specialità enogastronomiche preparate da provetti chef, tra questi Gildo De Angelis, direttore dell'ufficio scolastico regionale del Lazio. Soddisfatta la dirigente scolastica Patrizia Fiaschetti. Ospitiamo tantissime persone, la serata di gala, la festa per eccellenza dell'alberghiero di Fiuggi è la cena delle classi terze, praticamente concludiamo l'anno scolastico un anno scolastico che portiamo a termine nel migliore dei modi possibili abbiamo preparato tantissime pedanze, abbiamo tantissimi ospiti il prefetto non potrà essere presente ma ci ha mandato i suoi saluti attraverso un telegramma e avremo come ospite d'onore il direttore De Angelis, il direttore generale della regione Lazio insieme a tante altre autorità. La cosa spettacolare di questo istituto è proprio il poter contare su personalità su insegnanti, su collaboratori scolastici d'eccellenza per cui possiamo ospitare un gran numero di persone ed è la festa finale, la festa della bellezza, la grande bellezza dell'alberghiero di Fiuggi. Devo dire la verità è la prima volta che vengo qui a Fiuggi e me ne pento amaramente dopo aver visto questo grande istituto che è un istituto anche uno dei più vecchi d'Italia soprattutto sicuramente del Lazio ed è una cosa meravigliosa. Io quest'anno ho costituito la rete degli alberghieri e perché ritengo che gli alberghieri siano un fiore al rocchiello della nostra scuola e questo qui di Fiuggi è il padre di tutti gli istituti alberghieri del Lazio e quindi mi fa piacere essere qui e soprattutto mi fa piacere per i ragazzi e per i docenti perché la vicinanza dei vertici che delle volte vengono viste come in lontananza e persone che non si occupano della realtà quotidiana che succede nelle scuole invece io sono presente, voglio essere presente e voglio vedere che cosa hanno cucinato questi ragazzi e soprattutto come servono a tavola perché l'alberghiero da noi è di un livello superiore a tanti altri paesi adesso io ho visto anche alcuni paesi dove sono stato perché sto cercando di internazionalizzare gli istituti alberghieri del Lazio sono stato in Australia, sono stato anche in Cina e mi sono accorto che noi siamo in un altro livello e sicuramente i ragazzi degli altri paesi che verranno da noi potranno molto apprendere i nostri apprenderanno la lingua inglese, potranno apprendere delle particolarità ma quello che abbiamo noi, soprattutto i prodotti, soprattutto l'arte, soprattutto la storia sicuramente gli altri paesi non ce l'hanno mi fa piacere essere qui, penso di poter tornare ancora una volta e ad mai ora devo dire la verità che rimango stupito dell'edificio, della veranda, di come sono stati preparati i tavoli e questo non fa altro che dimostrare, ripeto, ancora una volta l'eccellenza dei nostri istituti alberghieri e l'eccellenza dell'istituto di Friucci Questa scuola l'ho scelta perché questo mondo, il mondo alberghiero mi è sempre trovato un certo fascino in questo mondo e io sono venuto qui che ancora ero indeciso sull'indirizzo poi mi sono appassionato alla sala e a tutto il mondo della sala Ho scelto la scuola di Friucci soprattutto per la qualità e per la preparazione dei professori molto elevata è una struttura che mi ha colpito soprattutto per la sua storia è stata per me una cosa fantastica, un bel impatto visivo mi ha dato molte emozioni e questo percorso per me sta andando benissimo sono molto contento quindi di fare questa scuola, di partecipare a queste lezioni